ciao a tutti ben ritornati allora dopo l'episodio della moneta 10 dollari canadesi quindi il quarto di oncia canadese quindi la moneta tipica tra le monete d'oro che sono in commercio quella del canada è l'ora invece di parlare della moneta quella proprio da un'oncia quindi vi faccio vedere un po intanto le differenze tra le due una è un quarto dell'altra effettivamente quindi sia come peso le dimensioni sono un po da volendo anche da discuterne perché sono sono un quarto una dell'altra però diciamo che la questione sta nel capire il fatto dello spessore che adesso è impossibile da farvi apprezzare forse il fatto dello spessore perché se voi le guardate così non è che una è effettivamente un quarto dell'altra o meglio diciamo che con la questione dei cerchi si fa si fa fatica a capire che una è un quarto dell'altra però insomma fra spessore fra il peso e tutte le menate varie comunque una è un quarto dell'altra ecco questo è un po il discorso allora sono carine non sono le mie preferite le monete piccoline così adesso perché non ho non posso farvele vedere con e neanche con gli scudi san marinesi sono veramente piccoli quindi quelli non avrebbe senso però il le sterline le sterline e questa qui avrebbero più o meno faccio un attimo un confronto al volo sì la sterlina è 7,98 questa qui è 7,75 di peso quindi cioè diciamo che si troverebbero due monete molto simili e queste sono carine perché hanno un valore ad oggi diciamo agosto 2024 che in linea più o meno con la banconota da 500 euro se vogliamo la sterlina è più avvicina un po di più però diciamo che questa equivale a una banconota da 500 euro circa no in realtà è di più perché adesso il prezzo è aumentato ancora tantissimo quindi titolo 9,16 titolo 9,6 7,30 già la sterlina la sterlina già è troppo in alto niente toccherebbe compensare cioè pensare ai marenghi i marenghi sono più piccoli come come valore hanno un 5,8 grammi di oro fino e quindi sono più in linea sul fatto dei 500 euro però insomma da lì a fra qualche mese magari la cosa già non è più non è più così perché loro attualmente sta salendo tantissimo tra l'altro venerdì si è stabilizzato oltre i 2.500 dollari l'oncia e quindi insomma sta prendendo una via sempre più in alto e che dire c'è questa salita dell'oro che continua ad essere abbastanza abbastanza forte infatti io queste monete qui le ho prese ho aspettato lo stipendio prima però le ho prese nella speranza di arrivare prima della salita oltre il 2.500 perché potrebbe essere che oltre ai 2005 che c'è una soglia psicologica potrebbero partire ancora un po' in alto e quindi potrebbero avere insomma delle dei movimenti un po' particolari quindi sono contento di averli presi prima di questo di questo evento ovvio presi prima ognuno al limite delle sue capacità perché tanto voglio dire alla fine non è che ho preso chissà che cifre strane chissà che 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 robe strane ho preso qualche monetina va bene senza rifare tutta la storia insomma come per la moneta da un quarto di onza le monete sono esattamente uguali e non è che cambia a parte la dimensione le scritte sono esattamente le stesse una ha semplicemente il riferimento ai 50 dollari una invece ai 10 dollari canadesi però per il resto la zigrinatura nei bordi la foglia d'acero è tutto esattamente uguale le scritte sono uguali una ha scritto un oncia l'altra invece ha scritto un quarto di oncia ma poi dopo andiamo a vedere al microscopio perché ho visto che comunque le registrazioni non sono insomma in alta definizione cose varie però rendono bene l'idea quindi diciamo che io penso che continuerò finché è possibile a utilizzare anche questo strumento quindi passiamo agli soliti controlli che facciamo anche perché è una moneta che non ho mai misurato e così vediamo un po' se i valori combattano con quello che dovrebbe essere il suo i suoi valori reali ecco ok eccoci qua tutto quanto è stato allestito per rifare le nostre classiche prove che si fanno insomma attualmente allora intanto c'ho una piccola aggiunta che volevo fare un piccolo esperimento che in realtà è fallito miseramente che era in sostanza per fare la prova del rumore tipo in questo caso la moneta dovrebbe suonare in maniera molto cupa molto molto breve perché ha una purezza molto elevata però per esempio con la moneta piccolina non ci sono riuscito altra volta e quindi pensavo di fare una specie di piccola pinza di plastica in modo da incastrare la moneta nel mezzo e così da potergli dare il colpo laterale e sentire il suono e avere anche un sistema un po più standard per fare queste prove cosa che adesso non sto facendo al che avevo pensato in maniera fallimentare di mettere due pezzi di di gomma da cancellare fissati con dell'octite sopra e sotto però la morbidezza della della gomma e la penso la porosità qui del della molletta non ha funzionato volevo utilizzare la molletta in modo che così tutte le volte che lasciavo avevo sempre la stessa pressione per tutte le prove in questo modo avevano crea un sistema di standardizzazione il problema cosa è stato che la gomma è deceduta prima ancora di fare il primo test di conseguenza dove provare con altri sistemi casarecci allora io so che ce n'è uno in vendita di un ragazzo americano che fa sempre delle prove di questo tipo però il discorso è questo è un oggetto di plastica fatto esattamente come una molla così e costa 35 dollari al che vorrei provare prima a farlo io e poi se proprio sono un fallimento totale mi dedicherò a dare i soldi a quest'altra persona comunque allora qui intanto abbiamo le due monete vicine adesso vi faccio vedere un pelino pieno dettaglio questo 50 dollari canadesi allora giusto per farvi vedere un po le differenze così alla grossa se la luce mi aiuta allora in una c'è scritto qui un quarto un quarto di oz nell'altra un oz il colore allora dipende ovviamente da come viene messa la luce però vi posso dire che è uguale non mi da l'impressione di essere diverso la le due foglie siccome una molto più piccola e comunque ho fatto vedere un altro video comunque è piena di dettagli è una sbrellucica molto di più quindi può confondere con il senso del colore se lo giro qui di qua su elisabetta se lo giro di qua su elisabetta insomma sembrerebbe quasi che questa piccolina abbia un intensità diversa a video però a occhio anche a occhio anche a occhio sembra dare un intensità diversa poi non so se per caso hanno fatto delle varianti o se è proprio un impressione che danno le due monete così anche perché questo chiede l'85 questo qua invece è dell'88 tre anni di differenza non so se possono avere queste queste variazioni sul colore perché per esempio i 50 pesos messicani se prendete annate diverse si vede che non sono esattamente esattamente uguali quindi probabilmente anche i materiali con cui vengono mischiati quello quello 001 per cento insomma che che viene utilizzato probabilmente influisce sulle sulla pigmentazione ok allora partiamo prima con la prova della calamita allora quello che ci si aspetta insomma è che la moneta non non si deve attaccare non deve fare nessuna forza allora mi è stato chiesto perché non faccio la prova non del magnetismo nel senso sul fatto che la calamita viene attratta la moneta viene attratta dalla calamita ma al contrario perché loro diciamo che se tu spingi la calamita su una moneta d'oro comunque su una pepita d'oro in generale questa viene respinta dalla calamita non viene attratta fa una funzione al contrario allora il problema qual è che io utilizzando anche questa questo bilancino che ovviamente fa schifo il fatto è che con moneta anche di questo di questa dimensione non si vede questa pressione non si riesce a percepire questa pressione e ho visto anche fare delle prove con un supporto tipo di polistiroli insomma che ti fa galleggiare la moneta e poi con la calamita gli vai a fianco gli spingi gli stai gli stai vicino e quella in sostanza nell'acqua vedete si vede che si che si sposta solo che quella è una prova che mi dice se fosse palese come quando provi ad attirare del ferro e quello prende tac viene attaccato e sta lì è un conto però così non lo so per me sono prove carine così da poter fare però non non mi piacciono eventualmente se in un futuro prenderò un bilancino fatto meglio che mi farà vedere effettivamente questa cosa allora inizierò a farlo effettivamente ma attualmente non è una cosa che non mi sembra una prova sensata ecco tutto qui comunque intanto lei non rimane attaccata e questa l'ha superata poi dimensioni allora la moneta deve avere un diametro di 30 mm siamo qui il 3 l'ha preso perfettamente e anche sullo 0 direi che ci siamo che ci siamo abbastanza vediamo un po se possiamo far vedere meglio si direi che ci siamo abbastanza quindi sul 3 e qua sullo 0 allora io faccio vedere così insomma nel nel senso che chi guarda deve sapere come funziona il calibro non quello digitale ma così quello meccanico altrimenti chiaramente potrebbe dire sì vabbè ho capito che ho fatto la prova ma non ho capito niente se va bene oppure no lo spessore invece deve essere di 2,87 mm allora questa è una moneta che è un po schiacciata in alcuni punti si nota adesso farò vediamo un po se se mi viene qualcosa di sensato allora 2 2,8 85 non ci arriva facciamo 2,8 2,8 ammetterei che già andrebbe bene 7 centesimi qui come siamo anche qui il 2,8 più o meno c'è se provo un'altra parte allora 2,8 direi che c'è anche qui vabbè diciamo che 2,87 2,80 mi va bene peso deve essere 31,1 vediamo un po se si vede se si vedersi 31,3 vediamo un po 31,3 mi sembra un po 31,4 mi sembra un po alti 31,3 31,4 e 31,4 31,3,4 del bilancino, perché anche sulle altre monete tendeva a stare più in alto che più in basso, solo che mi sarebbe piaciuto di più se stava a 31,2 mi sarebbe piaciuto di più. 31,4 l'altro come faceva che dovrebbe essere 7,75 e adesso sta un po' più in alto, diciamo che gli piace dare un decimino in più ecco, sì, un decimino e mezzo in più gli piace farlo vedere a volte, in questo caso sta più in basso, forse anche perché è più leggera la moneta, vabbè sta un po' più in alto. Adesso da 31,4, 31,3, vabbè diciamo che per la qualità me la faccia andar bene. Era meglio se era un 31,2 perché ci può stare insomma 31,1 e più gli danno un niente in più per il fatto penso delle delle tolleranze, però vabbè diciamo che 31,3 ce la facciamo andar bene, visto che le misure vanno bene, il peso più o meno ci siamo, diciamo che dovrebbe andar bene. Ha una caratteristica sta moneta che non ho mai visto in altre monete, dopo ve la faccio vedere meglio nel microscopio. Qui, aspetta che ve la indico con qualcosa di piccolo, in questo punto qui, tra i due pin, c'è una bozzettina, una bozzettina che però è punta verso l'alto, non verso il basso, quindi non capisco bene come mai ci possa essere una cosa di questo tipo della serie, non è che è un difetto di produzione, o è perché c'è qualcosa sotto, dopo provo a vedere meglio perché se provo a sentire così col dito non mi sembra di percepirla, vabbè dopo lo guardiamo al microscopio, questo piccolo dettaglio. Ok, momento del suono. Attualmente il momento del suono lo facciamo come ho fatto le altre volte, quindi. La mano. Esatto, infatti fa questo suono qui senza nessun reverbero, senza nessuna continuità, come era anche per l'oncia inglese che fine al 999999. e quindi non fa nessun suono specifico. Aspetta, provo a metterla vicino al microfono, così da far sentire un po' questo suono. è ok. Quindi diciamo che il suono di per sé è giusto per essere una moneta fatta in 100%, cioè 100% 999999 periodico e oro. Ok, passiamo un attimo sotto al microscopio e vediamo un po' le caratteristiche di questa moneta. Benissimo, eccoci qua con Sua Maestà la regina. Allora, primo lato che che mostro è appunto questo qui dove abbiamo sempre la scritta in alto Elisabetta seconda. Che dire, ovviamente la dimensione della moneta è molto più importante, quindi devo stare molto più in alto con il microscopio perché altrimenti non riuscirei a prendere nel... diciamo... in larga visione quasi niente. Allora... beh, il discorso intanto è che la moneta è esattamente uguale a quella da un quarto di oncia, la differenza, la differenza che questa chiede era 1985 e c'ha i 50 dollari anziché la scritta 10 dollari. Ve la faccio vedere con a fianco la piccolina. Come potete vedere insomma la differenza è un po' questa, come dimensione. 1 dell'88 e c'ha i 10 dollari, la scritta 10 dollari. Allora, cos'altro possiamo notare? Intanto che la sagoma della regina si vede in maniera un po' diversa. Questo ovviamente dipende molto da come gli arriva la luce perché chiaramente a secondo del lato in cui arriva si vede meglio o peggio. Però questa dimensione sicuramente rende molta più giustizia. Questa qui la luce sta arrivando dall'alto in basso direttamente e quindi non è laterale. O insomma con i due lumini che ho qui di lato da aggiungere. Vi faccio vedere per esempio se aggiungo la luce così di lato cosa succede. E va bene. Quindi la tengo direttamente così dall'alto. Allora, intanto la sagoma della regina si vede molto meglio. Anche il dettaglio del vestito secondo me si riesce ad apprezzare ovviamente meglio anche per la dimensione della moneta. Per non parlare della corona che a guardarla così per me risulta essere molto molto carina. Molto bella, carina è un po' lì deduttivo. Molto bella comunque come design, come riflette la luce e come si vede. Ah, tra l'altro, da come lo vedo qui a schermo, il colore dell'oro risulta essere molto chiaro. Mentre invece poi quando guardo la registrazione a computer diventa tutto molto più scuro. Quindi le impressioni che do è dal monitor che ho qui davanti che comunque è diverso rispetto alla registrazione che poi si vedrà a computer. Ha sempre, come per l'altra piccolina, la zigrinatura che crea lo sfondo e il lucido in alto rilievo che crea la sagoma e crea anche tutte le scritte. Quindi le scritte non sono in basso rilievo ma sono in alto rilievo. Allora, a differenza di altre monete, qui sul bordo di solito ci sono in questa parte qui tutta una serie di pallini che fanno da circonferenze. In questo caso invece non ci sono. Perlomeno per quanto riguarda questo lato. Ma mi sembra che non ci sia neanche nell'altro. Mentre invece abbiamo altre monete come il Krugeram per esempio che invece quelle palline le ha. Che anche quelle secondo me servono per indicare lo stato di deterioramento della moneta per l'utilizzo. Adesso chiaramente l'utilizzo è un po' particolare nel senso che io attualmente non conosco negozi che accettano... C'è oddio, i banco metalli sì, però negozi che accettano oro come pagamento, non so, tipo vai a comprare una macchina, costa, non so, 10 onze d'oro. Gli porti 10 monete e quelle te le prende è ok. Non le conosco, però probabilmente ci saranno in giro per il mondo. Allora, il bordo ha sempre quella zigrinatura che però con questa moneta più grossa già si riesce ad apprezzare meno perché si confonde un po' di più con lo sfondo. E poi dopo chiaramente dipende anche da come va la luce e come si rimette lui. Tipo vedete qui di lato c'è il riflesso che si vede meglio o peggio. Diamo un'occhiata un attimo dall'altra parte. Tutti questi segnettini sono quelli che vi dicevo che da qui si vedono ma a occhio nudo qualche segno si riesce a intravedere. Tipo questi qui che state vedendo adesso mi serve qualcosa per indicare. Qualcosa di fino per indicare. Vediamo un po' se questa qui... Tipo questo segnettino qui si vede. Questo qui non si vede. Tutti questi qui... No, c'è questo qua che... Aspetta eh. Ce n'è uno che si vede ma da qui... Ecco vedete questo qui? Questo qui si vede. Ma già con la luce così si fa più fatica a percepire. Ah, poi per il discorso invece qui di qua. Qui di qua c'è quella bozza. Che parte tipo vedete questo... Questo... Incisione qui si vede. E questa qua si vede. Comunque qui c'è questa bozza. Ma è una bozza che come vi dicevo al tatto non si riesce a percepire. Così adesso se ve la faccio vedere non si nota. Allora, qui si... Qui si riesce un po' a notare. Vediamo un po' se riesco... Comunque la bozza è in questa zona qui eh. In questa zona qui ma... Allora, se lo metto... Eccolo qua, vedete? Se lo giro un po' così invece si vede. Vediamo un po' se riesco a farlo più dall'altra parte. Se no non riesco più a mettere a fuoco. Allora, eccola qui. Vedete? Questa bozza? C'è questa bozzettina qui. Un po' particolare. Che però non riesco a capire insomma se... Boh. È un po' strano perché ha quell'effetto insomma che sale e non è tipo una pressione come le incisioni che ci sono qui che si vede che vanno verso il basso. Questo è che sembra andare verso l'alto. Io non ho capito come mai. Tra l'altro c'è anche un puntino al centro. Forse anche chi ce l'aveva prima si sarà detto ma... Come mai c'è questa bozzettina? Anzi, ci sono due segni. Quindi probabilmente è stato fatto più di una volta. Vabbè. Questo lì è un po' questo lato. Giriamo un lato. Eccoci qua. Con la scritta Canada. La dicitura che è 9999999 e quindi il motivo per cui fa quel suono così sordo è molto breve. Tutta la ramificazione che c'è della foglia che si vede molto meglio rispetto che quella da un quarto di oncia perchè, insomma, in questo caso posso permettermi di andare molto più in giù nei dettagli di questo disegno. La differenza. Vediamo un po'. Olli. E qui siamo un pochettino più nei dettagli del disegno. Che poi, se si va a vedere di fino a di fino, ovviamente tutte le parti hanno dei limiti che secondo me sono anche meccanici per il fatto di poter fare una ramificazione fino a... precisa, bella che a guardarla a occhio nudo sembra estremamente veritiera però chiaramente in questa parte, in questa parte qui, tutte le venature che dovrebbero stare nel mezzo non ci sono ma questo, insomma, penso che sia solo inerente a un discorso prettamente meccanico. E' bellina la cosa che la... questa parte della foglia, il pistillino, arriva dove c'è la scritta fa da sé paré tra la scritta gold e unoz che tra l'altro era una cosa presente anche nell'altra, vero? Sì, esatto. Infatti, sono per l'appunto esattamente uguali. Le scritte 9, 9, 9, 9 da un lato e dall'altro, come nell'altro, qui c'è qualche segnettino, qui c'è qualche segno un po' più importante Le lettere, tra l'altro, a guardarle così, mi sembrano meno precise rispetto a quella piccolina nel senso che quella piccolina, forse perché è più piccola e magari si nota meno però tipo la A, se si guarda la gambettina, quella al centro della A, sembra imbarcata verso il basso che tenda verso il basso, le due gambettine laterali inclinate, sembrano avere una gobbetta al centro dove c'è l'intersezione con quella centrale, questa qui, sembra avere anche qui le due laterali che sono un po' storte anche qui la A non sembra perfetta la C già va un po' meglio hanno un po' queste caratteristiche la D sembra quasi una D rovesciata nel senso che mi aspetterei più che la parte alta, cioè la parte alta che è piatta stesse verso il basso qui la A ha una gambina più larga e una più stretta hanno anche di qua, si e anche di qua, si e quello va bene e comunque insomma ci sono un po' questi dettagli che non c'è sono cazzate eh, nel senso che sono io che sto guardando così perché è l'euforia della prima volta qui per esempio c'è la O che sembra più precisa rispetto che la Z anche rispetto alla R non so se insomma è inerente al al fatto anche di come la luce sta entrando vediamo un po', si lo faccio così no, queste imprecisioni continuano a presentarsi infatti qui si vede che la punta della P non è precisa ha questi dettagli cioè si parla di di 0, pelo di niente eh considerate che non so che fattore di moltiplicazione sto utilizzando in questo momento perché non è indicato però posso andare veramente in basso ecco e quindi anche qui andare a vedere questi dettagli diventa ok diciamo così e qui diventa insomma una ricerca al microbo non tanto al dettaglio in sé però se io provo a guardare un secondo l'altra mettiamola un po' la linea più vicina così prendo la piccolina se io prendo la piccolina e vado a vedere tipo qui eh no, la R è più precisa in questo caso sarà per la dimensione? forse quando stampi così piccolo viene meglio viene meglio la R cioè comunque in generale le moni cioè le lettere vengono meglio? può essere anche il 9 sembra avere un carattere diverso forse perché sembra più cicciotto magari nel ridurlo cambia l'effetto del bold diciamo questa questa menata qui potrebbe essere la a me la R mi sembra un po' più precisa cioè oddio diciamo che il difetto sembra minore però probabilmente c'è lo stesso anche sulla N se si guarda così proprio ingrandita ingrandita cosa sono tutte queste palline grigie? comunque se si guarda così ingrandita effettivamente sembra più dritta però il difetto o meglio sembra che il difetto sia più limitato questa qui per esempio è una che c'ha la parte in basso molto rotonda mentre invece l'altra sotto la parte in basso è meno rotondeggiante diciamo sì sicuramente c'è delle parti piatte eh sì sicuramente diciamo che sarà un limite un limite fisico della stampa della stampa coloro è vero che lo si può sottigliare fino a certi punti di vista ma poi dopo anche creare queste queste zone probabilmente risulta essere molto molto più complesso però magari adesso un giorno prenderò anche la moneta da un decimo non so se o magari per il Kruger potrei vedere di prendere qualcosa vediamo comunque dai diciamo che questo qui sono un po' i dettagli i dettagli di questa moneta vediamo un po' di alzare al massimo il bordo il bordo iniziamo a essere molto in alto ok il bordo come per l'altra è quasi un ingranaggio sembra quasi un ingranaggio e tutte queste zigrinature è molto fatica da farle apprezzare in video però comunque direi che è tenuta molto bene anche a questo lato la parte superiore meno probabilmente perché è stata rischiata con altre monete o simili però nel complesso direi che è una buona moneta sì direi di sì c'è il discorso adesso che pian piano quando riprenderò magari una bilanza che bilanza davvero forse riuscirò ad avere una misura un po più corretta perché così diciamo che mi va bene me lo faccio andare bene però se volessi fare il malizioso tra la dimensione il peso che non mi combazza tantissimo tra il fatto che c'è il bollicino tra il fatto che i due colori non sono esattamente gli stessi tra la piccola e la grande potrebbe anche venire il dubbio che dico se dovessi comprarla da qualcuno che non conosco probabilmente non la comprerei ma questo anche perché è la prima volta che ho a che fare con questa tipologia di monete probabilmente anche lì comprandone diverse di diverse annate eccetera come per il 50 pesos messicani salta fuori che hanno queste differenze qui però per ora non conoscendolo direi che se c'è comprare da qualcuno che non conosco non lo farei onestamente vabbè questa è giusta la considerazione che mi ha dato questa questa moneta del canada per il resto come altre dimensioni va bene questa è la seconda delle quattro monete che ho comprato adesso ad agosto e ci vediamo al prossimo video con il Krugeran ciao a tutti